L'associazione Prendas de Ittiri da 15 anni supporta il territorio del Coros attraverso attività di promozione di prodotti agroalimentari, artigianali ed artistici. Questa mattina la presentazione è l'installazione artistica del murales dal titolo Una terra dove nascono le stelle, nella nuova piazza Odeon per i 15 anni di attività dell'associazione. Presenti il sindaco Antonio Sau che ha inaugurato l'opera con il taglio del nastro, il parroco di Ittiri per la benedizione e la presidente dell'associazione Paola Cossu. Il murales vuole rappresentare il luogo dove la passione, la determinazione e l'impegno dei lavoratori è capace di dar vita a prodotti e tradizioni uniche, di riportare in primo piano l'attività dell'associazione dando merito ai produttori che rispettando la tradizione ma proiettandosi verso l'innovazione e il futuro continuano a produrre eccellenze trasformandole nel migliore vettore di promozione del territorio ma anche dare, più che mai in questo difficile periodo, una speranza a tutti i cittadini.